A Palermo la quinta fiera del Mediterraneo è inaugurata dal Ministro Aldizio e dal Presidente della Regione Siciliana, Onorevole Restivo. Ecco le linee di mare lungo cui si diramano gli aiuti Marshall. In 20 mesi l'isola ha ricevuto oltre il carbone più di 2 milioni di tonnellate di grano. 5 miliardi e 400 milioni del fondo lire si sono riversati in Sicilia per lavori di pubblica utilità, tra cui il ripristino di impianti marittimi. Anche i campi prosperano quando i porti lavorano, l'agricoltura si motorizza, le culture si estendono, esempio il tabacco. Accanto ai numeri spettacolosi la grazia intima dell'artigianato, i famosi carretti e sui tessuti siracusani i vasi memory della civiltà greca passata in Sicilia. Anche il Ministero dei Trasporti può corredare i suoi grafici di cifre cospicue. Le funivie stanno recuperando lo sviluppo del 38, mentre gli autotrasporti l'hanno raddoppiato. Quasi 5700 linee su cui si corre con l'auto di tutti.